Se noi riusciamo a neutralizzare la mobilità passiva e al contrario fare in modo che nelle strutture sanitarie del Nisseno i pazienti possano arrivare per ottenere prestazioni sanitarie di qualità, è una ricchezza per il territorio. Si attiva e si alimenta un circuito virtuoso come avviene del resto in Lombardia, nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia, nell'Emilia Romagna in modo particolare. La prima impressione è che l'azienda di Caltanissetta sta lavorando molto bene, sta recuperando tempi che si erano persi nel passato. Noi ci attendiamo moltissimo, il direttore generale oggi ha parlato anche dell'imminente pubblicazione della gara d'appalto per la rianimazione, gli investimenti che il Governo della Regione ha immaginato per questo territorio sono importanti. Se si scrive sulla carta che quello di Caltanissetta deve essere un bacino non secondo a nessuna delle aree metropolitane, poi occorrono dei fatti e quelli li stiamo realizzando in maniera adeguata.